I segni belli sono molti e sono soprattutto quelli che sgorgano dall'iniziativa libera dell'uomo e dell'uomo che sa godere e vivere le relazioni. Però noi non dobbiamo dimenticare un dato che la storia da sempre porta a noi e cioè che noi siamo nella storia guidati da una presenza certo non sperimentabile dal punto di vista dei sensi ma reale ed effettiva fondata su una storia accaduta che è la storia stupenda del Dio che si fa bambino e questa guida di Dio Padre, il Salvatore potente, è una guida di colui che si è fatto umile che ci accompagna giorno per giorno e che ci fa vedere la bellezza dell'inizio e del compimento dell'inizio e della fine di ogni nostro istante e di ogni opera perché questo è il senso del Capodanno, se no sarebbe una pura convenzione è la riscoperta che in noi c'è una energia di riinizio in ogni istante e c'è una tensione al compimento anche se alla fine questo si chiama nascita e morte questa nascita e questa morte non hanno un segno negativo anche per l'uomo che non crede noi poi che abbiamo visto la risurrezione di Gesù troviamo pertanto in tutto questo motivi di grande speranza sono stato molto colpito soprattutto in Cisgiordania l'altro ieri in una situazione di territorio molto conteso sentire il patriarca latino, il custode di Terra Santa, i sacerdoti, i laici che erano lì dire abbiamo umanamente molta paura, siamo umanamente molto stanchi ma il sì della fede ci arma ogni giorno di speranza e di sobria letizia la nostra è una chiesa del Calvario ma pur essendo una chiesa del Calvario una umanità fatta di religioni che soffrono di uomini e di popoli, di nazioni che non riescono a fondersi e stare in pace caricati di una situazione che si va involvendo per la gravissima crisi di tutto il Medio Oriente però siamo pieni di una speranza autentica di una sobria letizia questa la si vedeva sul volto dei bambini e io penso che noi in Europa abbiamo le carte per essere ancora più spalancati perciò starei per dire dobbiamo guardare con molta attitudine critica verso le nostre paure, i nostri smarrimenti perché forse sono la conseguenza di un certo smarrimento del significato del vivere, della direzione del vivere ma diciamo la parola di una certa dimenticanza di Dio dopo da qui conseguono molte cose per esempio per la nostra Milano la grande occasione dell'Expo l'occasione appunto partendo da un bisogno e da un desiderio così radicale come quello delle energie per la vita di rimettere l'uomo al centro dentro un nuovo umanesimo capace di mostrare che la società plurale con diverse visioni di vita non è una obiezione abbiamo anche la possibilità di guardare in faccia a questa crisi economica con tutte le ferite materiali e spirituali che sta lasciando a partire anche qui da una prospettiva rinnovata di interrogarci su come stiamo ripensando i grandi temi che toccano tutti anche se sono molto tecnici, penso la finanza forse qualche passo si è fatto ma siamo ancora lontani di quel rapporto corretto tra finanza, cultura del lavoro, produzione è aumentata un po' troppo la diseguaglianza proprio a causa di questa crisi quindi lì c'è ancora un grosso lavoro da fare esattamente come il tema della pace che quest'anno il Papa ha svolto con la bellissima espressione fratelli e non schiavi forse ci domanda di impegnarci tutti soprattutto noi europei e non soltanto ovviamente a ripensare la funzione delle istituzioni che debbano sempre essere a servizio del bene comune sociale che è proprio della società civile che precede il politico che fonda il politico dobbiamo anche pensare in termini internazionali secondo modalità diverse rifondando le istituzioni che si occupano della pace trovandone delle altre insomma abbiamo una grande prospettiva di lavoro che è già in se stessa proprio perché è prospettiva di lavoro e il lavoro è una dimensione essenziale dell'uomo apre alla speranza perciò abbiamo tutte le ragioni per ringraziare Dio dell'anno passato e per affrontare il nuovo anno con energie rinvigorite ma serve uno scatto di responsabilità questo sì questo cioè niente niente cambia nella storia finché non cambia il cuore dell'uomo la sua mente la sua energia d'azione in una parola il suo stile di vita non bisogna mai separare il soggetto dalle relazioni relazioni dall'azione personale e dall'azione comune a tutti già lo dicevano i grandi antichi che noi abbiamo smarrito la vita buona ha sempre una indisgiungibile dimensione personale e sociale non c'è la vita buona personale e la vita sociale separata non c'è la vita buona sociale senza che ci sia vita buona personale questo dobbiamo cercare ma io credo che molte donne e molti uomini oggi nel quotidiano nel silenzio nell'anonimato lo fanno portando talora pesi indiscrivibili speriamo che la grande Milano la Milano del cuore in mano la Milano del DNA della solidarietà la Milano crocevia di civiltà la Milano città di mezzo cammini decisa in questo 2015 abbiamo l'occasione dell'Expo può fare da catalizzatore e può consentire a noi tutti una effettiva ripresa e speriamo di cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel grazie a tutti